In arrivo il Super Green Pass, con le nuove misure approvate dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre, arriva una forte stretta da parte del Governo nei confronti dei non vaccinati e possessori della certificazione verde base, ovvero quella ottenuta con un tampone negativo, che a partire dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 rimarranno esclusi da numerose attività della vita sociale. Il Green Pass rafforzato, infatti, permetterà ai soli vaccinati e ai guariti dal Covid-19 di accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla. In zona arancione le limitazioni riguarderanno solo chi non possiede il Super Green Pass. Inoltre, a partire dal 6 dicembre, la certificazione verde base sarà necessaria anche per entrare negli alberghi, negli spogliatoi per l'attività sportiva e per salire su mezzi di trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale, come bus o tram, tutti i casi in cui finora non era richiesto alcun tampone negativo. Dal 15 dicembre, inoltre, la vaccinazione diventerà obbligatoria per il personale amministrativo della sanità, per i docenti e personale amministrativo scolastico, forze di polizia, militari e soccorso pubblico. Abbiamo sentito il parere dei fanesi su questa nuova stretta del Governo. È stato, diciamo, susseguirsi di restrizioni che, secondo me, dal mio punto di vista, io sono una persona vaccinata e sono doverose, però capisco anche che poi c'è tutta una fetta di popolazione che, per paura o per, non so, ideologie più o meno politiche, soffre questa serie di restrizioni. È sempre una cosa, se vuoi, triste, quando si crea una separazione interna alla società. Però, non lo so, qua parliamo di salute e anch'io ho avuto per un po' di tempo dei dubbi, mi sono fatto delle domande, però sono dell'idea che ci dobbiamo passare. Il mio atteggiamento è molto dicotomico, dicevo, perché sono una Vax convinta. Allo stesso tempo, la scelta di aderire al Super Green Pass, adesso viene chiamato così, la trovo una scelta e una decisione piuttosto ambigua, che non fa altro che rendere ambigua poi tutta la situazione. Cioè, il governo, anziché svolgere il proprio ruolo, in qualche modo lascia, abbandona la propria responsabilità e la dà al singolo cittadino. Non taglia fuori nessuno, però mi sembra giusto andare avanti con la vaccinazione. Se vogliamo uscirne, questa è la soluzione. Comunque non poter entrare in un bar solamente perché non ti sei vaccinato, perché magari per dire per noi minorenni non è neanche scelta tua poter fare il vaccino, magari sono i genitori che non te lo vogliono far fare perché non sono sicuri di quello che c'è dentro o altro e quindi tu sei limitato per una scelta che non è neanche tua. Quindi magari è eccessivo vietare bar o altro. Ancora non si sa se effettivamente è sicuro il vaccino o no, che ti protegge veramente dal Covid. Però secondo quello che ancora ci hanno detto in teoria è necessario. Quindi secondo me è fra virgolette giusta. Queste restrizioni sono da accettare. Volente o nolente bisogna accettarle perché altrimenti non si va avanti. Le attività chiudono. Poi c'è i pericoli che possa portare la somministrazione di questo vaccino. C'è anche il risvolto che se non lo fai poi vai a finire in ospedale in un reparto in cui non è bello starci. Se tutti si vaccinano il Green Pass non serve. La mia libertà finisce dove comincia la tua. Per cui se c'è mutuo rispetto uno piglia le decisioni giuste secondo me. Non c'è fascia di età, non di età, di professionale o che rimane fuori. Rimangono fuori solo quelli che non possono farsi, ma tutti gli altri dovrebbero farselo secondo me. Io sono per la scienza e va bene la terza e anche la quarta dose. Io non sono d'accordo, pur essendo vaccinato, avendo il Green Pass, però non sono d'accordo per chi vuole essere libero di non vaccinarsi. Che lo rendano obbligatorio e basta. Mi sembra un controsenso, una mancanza di libertà per chi vuole essere libero di non vaccinarsi. Deve essere obbligatorio oppure libertà nel farlo o non farlo e non escludere chi non lo fa dalla società, perché li rinchiudi praticamente a casa, lavoro e casa. Insomma, per molti se serve per salvare il Natale ed evitare il lockdown, ben venga la stretta del governo, la pensano allo stesso modo anche ristoratori e baristi. Nonostante tutte queste nuove misure, diminueranno la clientele e l'affluenza nei locali nel periodo natalizio. Tante anche la confusione degli esercenti su come verrà distinto il Super Green Pass dalla certificazione verde base. Questo è quello che chiedeva il comparto, cercare di non chiudere, perché la paura è tanta. Dopo aver provato sulla nostra pelle gli anni passati cosa vuol dire entrare in zona rossa con l'aumento dei contagi e quindi la chiusura dell'attività, non possiamo tornare a quelle condizioni. Per fare ciò purtroppo c'è bisogno di un sacrificio. Il sacrificio è questo. Sicuramente ci sarà un calo, perché avendo questo Super Green Pass, chiamiamolo così, ci sarà un calo di affluenze nei locali per forza di cose. Ci saranno maggiori difficoltà, sicuramente gli incassi del periodo natalizio, quello che andiamo incontro, saranno di meno per forza di cose. Però sicuramente uno deve guardare oltre, non deve guardare nell'immediato, ma deve guardare che questo serva per non farci chiudere i prossimi giorni. La normativa secondo me è sbagliata. Perché danno carico a noi esercenti di verificare se uno ha il Green Pass e uno è a posto. Io oltre al barista prima devo fare il vigilantes e non posso fare una cosa del genere perché la mia attività è un'altra cosa. Io sto dietro il banco. Quanto arriverà il momento, molti di noi non sapranno cosa fare, però mettetevi sempre nei pagni nostri esercenti, un ristoratore, un barista, che deve stare qui a controllare una cosa, se è super, non è super. Devo andare a fare un corso di Green Pass al Ministero della Salute perché ormai non ci capiamo più niente.